Proprio oggi sono cominciate le audizioni a Ripa Bottoni. Il paese si è vestito di bellezze d'arte con la terza edizione di Ripa in Lirica, premio Piero Cappuccilli. Un evento dedicato alla memoria del baritono Piero Cappuccilli, originario del paese molisano. Un artista che nel corso della sua straordinaria carriera si specializzò nel repertorio verdiano. Siamo giunti al terzo anno di questa bellissima manifestazione, una manifestazione che si dovrà ripetere anche nei prossimi anni. In collaborazione con la nuova associazione non c'è più la fondazione Piero Cappuccilli, ma un'associazione denominata Ripa in Lirica, che nasce appunto per curare questo progetto avviato negli anni scorsi. Sicuramente per Ripa Bottoni è una cosa bellissima, perché avere tanta gente da fuori e vedere tante facce nuove per il paese non può che essere un orgoglio sia per noi amministratori, ma anche per tutta la cittadinanza. Riscoprire delle tradizioni, ma cercare appunto di mobilitare un turismo sia nel nostro territorio, ma anche fuori dal nostro territorio, in tutta la regione. È un concorso che porta il nome comunque di una persona laddove, a livello internazionale è stato molto conosciuto, papà, Piero, ha portato alto il nome dell'Italia in tutto il mondo artisticamente. E quindi curare un evento così nel dettaglio è un grande impegno, ma è anche tanta grande soddisfazione. La famiglia Cappuccilli nasce in questo paese. Un evento internazionale che attira artisti da tutto il mondo affinché possano attraverso note uniche rievocare quella bellezza che soltanto il canto lirico sa trasmettere.